state ascoltando pomeriggio insieme con Carmine Albex ventiquattro i minuti dopo le ore quindici arrivato il momento speciale dell'intervista diamo il benvenuto e il ben ritrovato al conduttore di linea verde e testimonial del Giro d'Italia Peppone Calabrese ciao Peppone buonasera a tutti stavo appena facendo una storia con l'hashtag potenza al giro taggando anche il profilo social su Instagram di Potenza al Giro per vivere a pieno e in comunità questa festa bellissima che coinvolgerà la Basilicata e il capologo di regione come arrivo di tappa eh già perché ormai ormai ci siamo il tredici di maggio il giro arriva a Potenza credi che questo evento possa essere un traino per il turismo della Basilicata tu personalmente cosa ti aspetti guarda quello che mi aspetto è quello che è già successo nel senso che siamo riusciti a coinvolgere tantissime associazioni culturali e di volontariato nella nostra città per creare un calendario di eventi collaterali dall'otto al quindici corrente mese questa cosa perché perché abbiamo scoperto e abbiamo riscoperto una città comunità un borgo comunità e gente che vuole bene a questa città e quindi si riunisce si stringe attorno a questa festa questa è una delle cose più belle credo che questa sia uno dei pochissimi eventi che hanno messo insieme tutte queste associazioni io faccio parte dell'associazionismo da tantissimi anni sono stato il presidente di un'associazione che si chiama potenzialmente onlus a potenza e abbiamo fatto diverse cose con altre associazioni in collaborazioni questa credo che sia la prima volta che tutte queste associazioni insieme contribuiscono a rendere la città più felice più leggera e questo ci vuole infatti anche sui tuoi canali social dicevi e appunto invitavi le persone a partecipare attivamente qual è l'invito che tu vuoi dare anche ai nostri ascoltatori per questa speciale giornata in primis di partecipare partecipare si può partecipare in tantissimi modi si può partecipare allestendo e abbellendo i balconi del colore rosa allestendo le vetrine chi ha dei ristoranti o chi ha dei bar di fare un cocktail rosa o un piatto rosa e comunque in generale anche di far partecipare i bambini fategli fare i lavoretti di colore rosa e appendetele al balcone oppure fateli uscire fate partecipare alle iniziative prendete la bicicletta e andate in giro nelle tantissime iniziative che in questi giorni si faranno a potenza e dopo avremo modo di dirvi che cosa si farà a potenza in questi giorni. Eh già sarà una giornata speciale c'è il presidente Bardi qualche giorno fa ha affermato che la Basilicata si candida a diventare una meta fissa del giro d'Italia non più occasionale secondo te è possibile raggiungere questo traguardo oppure ci sono interessi divergenti? Guarda da quello che ci dicono il giro al sud e ma da quello che abbiamo visto in tutti questi anni il giro d'Italia al sud è sempre un problema. Noi speriamo che la Basilicata che poi è questa terra di mezzo eh non spartiacque. Sì al centro del sud. Esatto noi stiamo lì noi stiamo lì e speriamo che possa essere veramente una una tappa fissa che credo credo che ci siano interessi economici ma io mi auguro con tutto il cuore che che veramente possa diventare tappa fissa anche perché l'energia bella che si sta vivendo in questi giorni è coinvolgente. Tu hai parlato anche degli eh iniziative delle iniziative eh che sono da contorno al giro d'Italia ce ne puoi parlare? Guarda sicuramente eh il la sede principale è il palazzo della cultura dove dall'otto al quindici eh gli orari sono quelli dalle nove alle tredici e dalle quindici alle diciannove e trenta c'è la storia del giro d'Italia. Si è allestita una tutto il palazzo della cultura con delle chicche con dei video storici degli arrivi degli arrivi a potenza con delle delle maglie anche una maglia rosa le biciclette dei video sulla nostra città e quindi invito tutti i genitori a portare soprattutto i bambini per farlo appassionare a questo sport che sembrerà strano ve l'ha vista la mia stazza ma io sono un grandissimo appassionato di passaggio di ciclismo anzi ho sono stato uno dei primi a comprare la bicicletta con la pedata assistita che poi insomma ho usato però poi dopo la sera insomma facevo un po' di fatica però comunque hai dato l'esempio perché sei stato testimonial anche in un video con la bicicletta e fatto vedere tutti i paesaggi della basilicata percorsi dal dal giro d'italia ho fatto i tredici chilometri in città eh ti pare poco di assolutamente ho anche intervistato delle persone storico intervistato Mimmo il ciclista che è insomma è quante coppe quante coppe ha vinto non lo so non so quanti chilometri ha fatto cinquecentomila non so quanti taglianti ha dovuto fare Mimmo e poi intervistato dei ragazzi che vanno in bici alcuni che hanno usano la bici quotidianamente nel capologo di legione più alto d'italia come a dire si può fare ragazzi che invece usano la bici come strumento sostenibile abbiamo intervistato anche loro abbiamo intervistato l'unico lucano salito sul podio del giro di basilicata non che ehm a parte nonché partecipante alla ehm al giro d'italia per dilettanti addirittura ci raccontava le gesta di pantani insomma un video interessante se non siamo stati due giorni per registrarlo tante competenze che sono avuto a potenza abbiamo fatto secondo me un bel lavoro e la città eh ne godrà sicuramente soprattutto dei video di questi piccoli video che abbiamo fatto che insomma servivano al giro per per mandarli in onda e ne valsa la pena caro Peppone tu ormai sei entrato un po' nell'occhio del ciclone perché c'è un'indiscrezione giornalistica eh che dice che potresti essere il candidato sindaco del centro-sinistro ma ora ti vediamo anche in politica ma guarda assolutamente no non è proprio mia intenzione non le non lo è mai stata sono invece molto interessato alle cose della mia città lo sono da sempre da prima che eh entrassi nel mondo della televisione tutti lo sanno insomma quelli che hanno partecipato alle attività mie di dell'associazionismo io parlo della città di Potenza perché ne sono follemente innamorato sono tornato a vivere a Potenza per questa ragione vorrei che questa città fosse una bella città dove da da dalla quale non scappare e come recito una canzone di Finardi dice vorrei dei figli e vorrei fargli vedere dove è nato il loro padre e dove è nato il nostro amore questo vorrei per la mia città quindi diciamo non vorresti essere sindaco però se volessimo fantasticare da da sindaco di Potenza cosa faresti la la prima cosa che ti viene in mente no non fantastico sul sindaco invece fantastico da cittadino eh vorrei una città dove le persone partecipassero in maniera attiva ai processi evolutivi di questa città che usassero un poco di leggerezza che non è mai sinonimo di superficialità e vorrei che questo sovrastruttura del par brut che non si possono fare le cose in questa città perché par brut perché sembra perché sembra che sia disdicevole fare qualcosa di leggero possa essere finalmente trasformata in energia positiva per vivere questa città nella maniera più bella possibile e tu che poi sei anche l'esempio di questa trasformazione dell'energia positiva perché sei riuscito ad andare alla ribalta a livello nazionale come conduttore di linea verde la scorsa puntata è andata in onda una splendida puntata in basilicata nella festa della mamma nel giorno della festa della mamma però ci sono delle delle voci che sono confermate cioè la tua conferma a linea verde estate giusto? Quella sicuro quella è una bella conferma anche perché sto vivendo un momento molto bello di grande crescita perché sono a contatto con delle buone pratiche italiane e sono proprio quelle che mi stimolano a fare delle cose per la mia città e sto girando l'italia sto conoscendo veramente delle realtà molto molto belle ma vi dico che per esempio se riuscissimo a ragionare sempre come stiamo ragionando adesso in città sul giro d'italia anche questa città può essere vissuta in maniera bella quindi è un messaggio propositivo e di speranza questo deve essere la linea identitaria di questa intervista assolutamente sì ci sono anche altre iniziative molto belle dal 10 al 13 dal 10 al 13 per esempio dopo il tramonto a cura di diverse associazioni tra cui vivere donna onlus colazione da tiffini io potentino pensate che bellezza e quando parliamo di cura e parliamo dell'altro e dell'importanza dell'altro queste associazioni hanno fatto secondo me una iniziativa bellissima è l'ospedale in rosa verrà illuminato il palazzo in in rosa bellissimo in modo tale anche un modo di ringraziare tutti gli operatori sanitari che stanno in questi anni hanno insomma hanno lavorato in maniera importante mettendo mettendo sacrificando la loro vita esatto sacrificando la loro vita anche familiare e questo è un bel è un bel segnale poi per esempio sempre domani sì c'è al la presentazione del progetto pista ciclabile galitello a e l'undici l'aperitivo in terrazza la presentazione del volume alfonsina e la strada di simona baldelli alfonsina c'è una canzone bellissima di te debois alfonsina e la bici che dove la la protagonista è margherita hack si è stata la prima ciclista donna a partecipare al giro d'italia e questa cosa al per esempio alla biblioteca nazionale sarà un anche un gran bell'evento e poi andatela a guardare il programma che c'è fino a domenica prossima c'è tantissime iniziative partecipate perché è una bella atmosfera la sostanza è che non è solo il giro in sé per sé ci sono tanti eventi da vedere e da assolutamente attenzionare caro peppone è stato un piacere averti ai nostri microfoni buon giro d'italia possiamo dirlo assolutamente sì dobbiamo dirlo buon giro d'italia e viva potenza assolutamente sì vogliamo i bambini per strada mi raccomando e viva i bambini anche ciao peppone ciao grazie ciao grazie